Siamo GreenSpider, una società sostanzialmente che si occupa di quella che è l'evoluzione della mobilità condivisa e stiamo creando un sistema per fare che cosa? Stiamo creando mezzi di condivisione tramite tecnologie che siano anche di tracciatura satellitare e che rendano per te possibile fare che cosa? Noleggiare il mezzo altrui, mettere a noleggio il tuo, poterlo condividere per creare che cosa? Una sharing economy, un'economia condivisa di mezzi di trasporto. Cambieremo la mobilità condivisa oggi. Siamo qui al liceo scientifico Majorana per presentare un progetto, il progetto Smash. Il progetto Smash in questo caso viene integrato su quelle che sono le biciclette Ascol che studenti e professori possono già utilizzare da oggi tramite un sistema di bloccaggio intelligente, semplice e facile, che funziona con un lucchetto e con un dispositivo intelligente, che consente quindi a chiunque di poter utilizzare tramite una semplice app tutti questi mezzi che verranno messi in condivisione, in maniera semplice, ecologica e veloce, in questo progetto pilota che porteremo e ingrandiremo nel Lazio. L'app che serve per interagire con i dispositivi Smash è facile e semplice da utilizzare. Cosa gli consente di fare? Di prendere e trovare i mezzi che sono in condivisione, di poterli prenotare, di poter vedere dove sei stato, di poter mettere in condivisione il tuo mezzo e la cosa più importante che utilizzerà un mezzo di pagamento innovativo, un gettone di utilizzo, un token che utilizzerà una nuova tecnologia, la blockchain, per avere trasparenza, sicurezza e facilità d'uso.